E' la Serena Molantino Della Easy Speed d'Erovia Poi andiamo dal Zucchini Roberto Zucchini Diego Di davanti La Rotelli Sarà la Rotelli E ci sono anche i rotelli Zucchini E se no mi devi andare a Zucchini E se no mi devi andare a Zucchini Salte lungo a lieve Rubelli Andiamo di qua Tanto fa Rubelli Primo 400 1-0-3-37 Poi la Rotelli Poi la Zucchini Siamo al quinto turno di salto Nella Liene Una gara in una volta Da la palestra Nuno che è un titolo Da la palestra Che guida Con 5.79 La gara degli allievi Siamo ormai All'ultimo giro E' la Rotelli Sarà la Rotelli Poi la Rotelli Ultimo giro Bisogna andare Porta a tre Puoi essere portata In terza posizione La Pelini Guarda a Calini 5-3-3 Per la palestra Signori E in presenza La sua prima posizione Già la palestra 5-7-9 Ci avviciniamo al finale Molotino Serena Molotino Poi la 2-6-7-5